Il 68 è il fenomeno socio-culturale avvenuto negli anni a cavallo del 1968 nei quali grandi movimenti di massa socialmente eterogenei interessarono quasi tutti i paesi del mondo con la loro forte carica di contestazioni contro i pregiudizi socio-politici. Abbiamo invitato il professor Cesare Quarenghi, ex preside del liceo russana, per discuterne in modo più approfondito. Secondo lei, quali furono gli eventi italiani ed extraitaliani che costituirono la base dei movimenti del 68? Ecco, secondo me sicuramente, sicuramente, cioè io mi collegherei a due motivazioni. Una è la grande importanza che ha avuto per noi la guerra del Vietnano, dai primi anni 50, che è stata la famosa battaglia in cui la Francia ha perso rovinosamente contro la resistenza ai patrioti indocinesi, vietnamiti soprattutto, la battaglia di bien bien plus. Quando i francesi hanno perso, praticamente i cinesi rischiavano di entrare e di conquistare tutta l'Indocina e a quel punto sono subentrati gli americani. È nata lì la guerra del Vietnam, che è stata una guerra che ha segnato, come dicevo prima, la nostra generazione. Le manifestazioni per Vietnam sono quelle, per non fare troppo lunga, che hanno praticamente rappresentato l'inizio della contestazione studentesca nel mondo occidentale. Ho detto due ragioni, questa è una ragione politica, ma molto importante. Perché la contestazione studentesca del 68, cosiddetta, in verità è partita prima, è partita a Barclay nel 64. E le motivazioni erano due, i diritti civili, i diritti civili tenendo presente che nel sud c'era ancora la segregazione razziale degli Stati Uniti. Insomma, in quel periodo si sbloccò una situazione che nel sud era completamente bloccata. La contestazione del sud, che vide molti studenti bianchi andare al sud a sostenere questi diritti civili dei neri. In Italia, nel 68, c'era un giornalino studentesco, quello si chiamava la Zandara, e vide la luce al liceo Parini di Milano, e parlava di cose che per quel tempo, in cui la cultura era abbastanza bloccata, gli ero sufficientemente scandalo. Dopodiché nel 67, e qui entro in scena anch'io nel mio piccolo, perché inizia il 68 italiano, nel 67, e abbiamo l'occupazione dell'Università di Pisa, abbiamo l'occupazione di Baratto Campana a Torino, e abbiamo l'occupazione della Cattolica, che sono i primi centri del 68, che proprio entro nell'Università del 67. Va bene, e la contestazione si sviluppa per tutto il 68 con manifestazioni continue. L'altro motivo, l'altro motivo, è qualora l'ascensione sociale mai come allora in Italia era in pieno servizio. Per cui figli di persone che mai avevano avuto la possibilità di studiare, potevano fare tranquillamente le scuole, pagando meno di quanto non si era mai pagato. Nel 68 quindi avevamo una completa trasformazione culturale del corpo sociale, specialmente nella parte giovanile. E i nostri politici non hanno saputo rispondere a questa esigenza di rinnovamento. Esisteva, secondo lei, un sentimento comune in tutte le frange del movimento? Lei come lo visse. Devo dire che, come tutti i movimenti, anche se il primo anno, il 67 e 68, eravamo molto compatti, ma come tutti i movimenti poi si sfrangiano. E quindi già il 69 è stato un anno della diaspora. Essendo uno studente, ecco io personalmente, personalmente, in quella sorta di stato nascente, non si percepivano le differenze. Ci sentivamo veramente tutti compatti, diciamo pure contro gli adulti, ma contro un tipo di scuola che sentivamo come superato, non aveva le nostre sensibilità. E quindi sicuramente, ecco, siamo stati vissuti come una bomba che rompeva tradizionali e anche sociali. Una volta passato, per così dire, l'occhio del ciclone, delle contestazioni, come mutò, in quanto ad ideologia politica, il movimento studentesco? Questo è una questione che mi vuole portare, l'ho citata perché mi porto da un'altra parte, come abbiamo fatto appunto a, come dire, diventare quasi la quinta colonna di un mondo, quello comunista, che stava andando in disfacimento, che si sarebbe, come dire, consumato morendo su se stesso più che altro, perché l'89, no? L'anno della caduta del muro di Berlino, eccetera, è un mondo, cioè hai l'immagine di un mondo che muore per una sorta di tumore interno. Capito? Come abbiamo fatto noi, che eravamo, noi intendo dire, sono generico, perché in noi non esiste, cioè esiste un sacco di acne, però in qualche modo, in qualche, perché molti che hanno fatto il movimento studentesco sono entrati nel Partito Comunista Italiano. Io ho partecipato a manifestazioni per la verità, poco, le ho viste, non è che io ho partecipato, in cui si inneggiava, non molto partecipate, ma c'era, no? Ma non venivano. Viva il compagno Giuseppe Stalin! Ora, ho letto due o tre anni fa un libro della nuova storiografia sovietica, che adesso si avvale di tutte le archite dell'Unione Sovietica, e quello storico ucraino, Kravchuk si chiama, sopra la cronaca, calcola che Stalin ha ucciso in ogni anno della sua vita, da capo dell'Unione Sovietica, un milione di persone all'anno. Cioè, come ha fatto un movimento che voleva liberare, voleva portare chissà che cosa, a diventare un sostegno, in qualche modo, per un certo qualverso, di una sorta di vita sociale che era vicino a morire. Queste dimostrazioni studentesche si basarono, furono base di movimenti filosofici? E ci furono mai dei fenomeni di rinascita, per così dire, degli eventi del 68? Perché questa domanda mi rimanda, ovviamente, al pensiero di Marcuse, al pensiero di una società che va sempre più rendendosi liberale, per cui c'è bisogno di liberarla, ma non utilizzando la classe operaria, ma utilizzando, ovviamente, un messaggio sulla liberazione di Marcuse. E devo dire che, a distanza di tempo, si ci ha influenzato molto più di quanto non sappiamo. Ad esempio, mi diceva che si stava costruendo un comando di fronte al quale bisognava molto semplicemente derogare. Derogare in tutto. I filoni, ad esempio, non vi ho neanche citato, del Macondo, non vi ho parlato del Macondo. Il Macondo è la città di cui parlano 100 anni di solitudine, in cui gli uomini trovano una nuova vita. Allora, il Macondo è il riflusso che nel 77 ha il movimento del 68. E nel Macondo cosa succedeva? Non si poneva più al centro della politica. Tutto è politica, assolutamente. Si voleva liberare, si voleva mettere al centro il libero amore. Si comincia a parlare allora di gay, di liberazione delle catene culturali, eccetera. Entra di moda a riferirsi a un certo Freud, a Willem Wright, che parlavano di liberazione sessuale, sostanzialmente. Nel 77 il movimento diventa molto più sensibile nei confronti di queste problematiche sociali, personali, di liberazione sessuale, eccetera. E quindi entriamo in un'epoca assolutamente, assolutamente diversa. in un'epoca assolutamente, assolutamente diversa.